Musica Ve lo premetto, lui adesso dirà non ho fatto niente di speciale, però Pasquale Iadicicco, carabiniere scelto dell'undicesimo reggimento Carabinieri Puglia distanza Bari, il 14 settembre era a Lampedusa, ben arrivato, grazie di essere con noi innanzitutto io so che la divisa che lei indossa con tanto onore e con tanto amore la porta a dire ho fatto quello che dovevo fare, però me lo racconta quell'abbraccio per l'ennesima volta per cortesia Allora ci trovavamo quella mattina comunque in preda un po' pure al panico da parte dei migranti che volevano andare via, quindi diciamo noi davamo spazio a bambini e famiglie con madri e padri, diciamo la priorità di passare per prima per essere rimbarcati e ogni tanto si creavano dei tumulti tra la folla, quindi c'erano spintoni, persone che volevano primeggiare sulle altre, quindi diciamo in questo frangente questa bambina con la madre stava passando e quindi ho visto, ho percepito un pericolo per la bambina e mi sono gettato tra la folla, mi sono fatto dare la bambina e me la sono portata con me dando spazio diciamo alla madre di liberarsi dalla folla e venire diciamo proseguire per la propria strada con più tranquillità. E questo è il carabiniere, vedo una persona in difficoltà con una piccola persona in sicura difficoltà, non avrà avuto problemi a farsi spazio tra la folla perché tutti la vorrebbero avere come vicino di casa, non solo perché è un bravissimo ragazzo ma perché insomma le spalle larghe così. Ci ho detto, stupisce questa manualità da parte sua da papà e questa bambina che sta buonissima in braccio a lei, buonissima e sa è un per noi che forse vorremmo e dovremmo fare di più per queste persone che sono come noi, sono persone però che hanno perso tutto e cercano aiuto. Ecco, immaginare e vedere il suo gesto ha fatto bene al cuore. Sì, poi riguardandolo è un bel gesto, ha fatto bene anche a me. Lei non è ancora papà? No. Sarà un ottimo papà, lo sa, vero? Lo spero. Lo spero. Allora, lei è un giovane di poco più di 30 anni. Sì, 33. E anche lei ha dovuto fare scelte importanti, no? Sì. A un certo punto diventare quasi capofamiglia, no? Sì. Perché avete perso il vostro papà. Sì, abbiamo perso mio padre nel 2011. Quindi lei era? Appena quasi 21 anni, non avevo compiuto neanche 21 anni. E lì la prospettiva cambia, no? Eh sì. Non hai nessuno che ti prenda in braccio, però la prospettiva cambia e quindi ha fatto questa scelta. Sì, sì. Diventare carabiniere. Sì, a 25 anni ho deciso di intraprendere questa carriera e ne sono orgogliosamente felice. Orgogliosamente felice, quanto è bello. Ha ragione, ha ragione. Senta, si dice di lei è un gigante buono, non fatelo mai arrabbiare, ma adesso lo dico perché anche quando quella divisa, stabilito che la divisa non si toglie mai, ma mentalmente, però anche quando è fuori dal proprio lavoro avete aiutato una famiglia in difficoltà. Lei è padrino di battesimo? Sì. Di un bimbo che oggi è un bimbone, ha 11 anni? Sì, c'è 11 anni. E come si chiama questo bimbo? Omar. E da dove viene? È nato qui in Italia, da madre italiana e padre di origini marocchini. Io insieme a mia madre e insieme a mia sorella abbiamo accudito questo ragazzo, che ormai si può dire che è un ragazzo, per tutto il percorso di vita. Per noi è un elemento parte della famiglia, fa parte ormai della nostra famiglia, è il nostro fratello più piccolo. Quindi mi verrebbe da dirle, lei è il recidivo? Posso permettermelo? A quanto pare, sembra di sì. A quanto pare. La più, non ha più saputo niente di questa bambina, vero? Purtroppo no, perché il lavoro è stato tutto, diciamo, di fretta, quindi io sono scappato subito dopo ad aiutare i colleghi perché la situazione era quella che era. È complicato, vero? Sì, abbastanza. O meglio, se volete, non è facile, mettiamola in questa maniera. Noi, guardi, da questa fotografia, la bellezza di questa foto sta anche nella sua espressione di un uomo che non perde di vista neanche uno dei soggetti che ha davanti, però quella cucciolina si è proprio arrampicata, si è messa lì, si vede che l'ha trovato comodo, non so come dire. Può darsi. L'ha trovato comodo. Guardi, ogni bene per lei, per la sua famiglia che è arrivata qui, siamo felicissimi, sono dietro le quinte, ma abbiamo avuto modo di stringerci la mano e sarà un papà perfetto. Me lo auguro. Si fidi, perché lei è il recidivo buono. Questo è Pasquale Ia di Circo, grazie, grazie a lei, grazie all'arma dei carabinieri, grazie di essere stato con noi. Ci fermiamo, ci fermiamo qui, questa è l'ora solare, sapete quanto siamo fieri di potervelo dire tutti i giorni, non avete neanche l'idea. Grazie, a presto. Grazie. Grazie. Complimenti, bravo, bravo.